Iesuiti e Euclidei, prestiti come dei consigli per entrare a morte degli imperatori, per la dinastia dei Mim. Cerco un centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Povera in opera che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.